jetzt Ciao ciao da canale Nikita, oggi noi facciamo un'intervista doppia, con mia mamma Marcia. Nikita non l'hai salutato bene. Oh, che stufita. Ciao ciao da canale Nikita. Troppo brutto, rifallo. Ma basta truccare mamma. Vi chiamate? Nikita. Masha. Quanti anni avete? 8 anni, mezzo. 38 anni. 38? Così tanto? 37, 88 non mi ricordo. Vi piace fare lo Youtube? Si mi piace, si si. Si mi piace fare lo Youtube con questo rompi rompi. Ma cosa dici mamma? Sono bravissimo. Perchè come mai hai iniziato a fare lo Youtube? Perchè guardavo video Youtube per imparare il russo, così ho imparato anch'io. Lo volevo fare anch'io dopo Youtube. Aspetta che mi gratta la schiena. Aspetta aspetta aspetta. La mamma, la mamma come mai adesso ha deciso di partecipare. Che mi diverto anch'io. Ma ecco il video preferito che faccio. Le tabelline. Il mio è il video. Io lo veo. No, io ne lo veo dai. Mangiare calamelli. Queste cose mi piacciono. Overboard. Per questo faccio anche Youtube. Perchè posso dire ai genitori. Dai capriamo un overboard per fare un video. O andiamo a questo parco così facciamo un video. Faccio un po' furbetto io. Per questo. E tu mamma quale è il tuo video preferito che hai fatto? Quando ho fatto le scherzi a Nikita. Cattiva sei cattiva. Vedrai ti faccio la vendetta. E anche le tabelline. Smettila se no ti faccio fare tutti i compiti. No ma perchè sei sempre cattiva così? Che stuffita. E mi sembra sempre. Papà. Papà. Mamma mi dice che deve fare i compiti. Mi mette in castigo. Papà. Cosa fai a tranne lo Youtube nella vita? Io, io, io. Canto nel coro. Vedete che vi canto? Dopo. E dopo. Dopo io faccio modello. Ho fatto pubblicità. E ho fatto film. Faccio autore. Palloncini. 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 E tu mamma cosa fai nella vita? Allora. Lavoro al ristorante. Devo aiutare questo pazzo maniaco. Fare i compiti. Fare i compiti. Basta fare i compiti. Ma che ti castigo una settimana senza iPad se no eh. No. Ma perché sei pronta settimana senza iPad? E le tue materie preferite a scuola quali sono? Intervallo. Niente. E tu quando andare a scuola cos'è che preferivi? Disegnare. Dammi il mio pennarello speciale. Non toccarmi. Ehi. video di Hello Neighbor. Non solo. Hello Neighbor. E dopo provano a ridere. Questo mi piace molto. Poi. E la mamma. Tabelline. Cioè cantare una canzone? Sì. Cucca. Cucca pura sta su una vecchia pianta. Cucca pura canta felici. Canta. Cucca pura sta su una vecchia pianta. Cucca pura. Cucca pura sta su una vecchia pianta tutto il sottogiorno felice e canta qua cucca pura. acqua cucufiorini insieme a me e se cantiamo una canzone mamma ciao ciao ai canali Nikita iscrivetevi dobbiamo prendere 100.000 prima di 100.000 di argento ma festeggiamo cosida